E mentre per Casa Bartoli si attendono risposte per l'ex zuccherificio sono arrivate buone notizie. Infatti la struttura che si trova a sud della città e che per anni è stata al centro del dibattito politico è stata acquistata da due imprenditori locali, Paolo Andreani e Giancarlo Paci. Ne parliamo con il sindaco di Fano Massimo Seri che abbiamo in collegamento. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Intanto le chiedo come sta, visto che oggi è il settimo giorno di isolamento a causa della sua positività al Covid? Direi il nono giorno. Fortunatamente mi sono negativizzato proprio oggi, poche ore fa. Bene, dicevamo ci sono dunque importanti novità per l'ex zuccherificio, chiuso ricordiamo dal 1992, quindi una vicenda politico-amministrativa che dura da ormai 30 anni, l'area complessivamente di 120 metri quadrati di cui più di 50 costituiti da scheletri prefabbricati. Ha avuto modo in questo periodo di incontrare i due imprenditori? Sì, abbiamo avuto modo di incontrarci un po' di tempo fa, con i ragionamenti. Io accolgo come una buona notizia che ci sia stata questa operazione perché parliamo di imprenditori locali, di imprenditori seri che conosciamo e finalmente ci sono degli interlocutori diretti, veri, che possono consentirci di guardare con una prospettiva più vicina, ma soprattutto più concreta. Perché è una zona che inevitabilmente col tempo ha visto un degrado crescente, è un'area imponente, importante, che richiede inevitabilmente anche investimenti significativi, quindi è importante che qualsiasi progetto deve avere anche una sostenibilità economica perché altrimenti gli investimenti non arrivano. Da parte nostra c'è una massima disponibilità a ragionare per ovviamente interventi e progetti che abbiano una finalità che sia consona con quella che è l'area e la sua posizione. Ecco, si è parlato di una batteria dell'idrogeno, di un maxi outlet, però ancora nulla di definitivo, è così? Beh, ci sono alcuni riferimenti, adesso siamo in una fase anche di bandi PNNR che mettono risorse importanti, e quindi so che stanno guardando con attenzione anche a queste opportunità. Se vengono sarebbe un grande risultato, però possono essere diverse le opportunità. Quindi diciamo ad oggi esprimiamo un plauso e accogliamo come elemento molto positivo questa novità. Sindaco, ne approfitto perché poco fa abbiamo sentito anche un appello dei residenti della zona trave per Casa Bartoli. Quali progetti avete per quell'area? Beh, quella è un'area importante, sta in un contesto significativo. Noi abbiamo un percorso che non è rimasto fermo, però richiede risorse significative. Fra l'altro proprio in questi giorni abbiamo ragionato di inserire queste progettualità anche nel piano PNNR, alcuni bandi che sono in scadenza anche a breve. Il tema vero è che è vero che è una casa colonica, ma ampia, e le risorse che occorrono sono significative. Quindi secondo me ci sono due elementi. Uno più immediato è quello di mettere in sicurezza quello spazio, e capire se si può parlare di demolizione e poi un'eventuale ricostruzione, oppure degli interventi che possono evitare determinate situazioni che si sono create anche recentemente. Dall'altra il riferimento è anche all'area del suo insieme, anche su questo ci saranno delle novità, perché abbiamo appena presentato, partecipando a un bando sport periferie, proprio per la struttura dell'atletica leggera, che dialogherà anche con la parte antistante, cioè dove c'è quell'area verde, dove ovviamente verrà interessata per una risistemazione che vedrà, con il suo mantenimento ovviamente di verde, che vedrà legata, come dicevo, all'impianto sportivo, una migliore accoglienza. Dalle notizie che abbiamo, il bando è uscito adesso, ma le risorse saranno sufficienti per dare risposte a quasi tutti i progetti presentati, perché il contenitore vede molte risorse, quindi siamo molto ottimisti in questo senso. Sono due, che potranno vedere anche un domani un ingresso anche dal retro, quindi andrà a gerevolare anche la zona della Paleotta, che vedeva anche un sacrificio, situazioni di disagio legati a quell'ingresso. Quindi una duplice attenzione, che ovviamente non può essere immediata, perché parliamo di risorse significative, però da subito è un impegno che mi prendo anche con la struttura, di analizzare come poter intervenire per mettere in sicurezza. Però posso aggiungere che proprio nella variazione ultima abbiamo già inserito nel piano triennale anche Casa Bartoli tra gli investimenti che questa amministrazione vuole fare. Sindaco, grazie per aver fatto chiarezza e soprattutto per aver dato una risposta ai nostri telespettatori. Buona serata. Grazie, buona serata a voi.